salve sono sempre antonio gentile e vi presento altri due prodotti della remo il tubano nasso loud è uno strumento studiato opposta per non produrre troppo rumore per quindi suonare in appartamento studiare lavorare anche con la musicoterapia in situazioni dove il livello sonoro deve essere molto basso vediamo un pochino come funziona è dotato di un pad che se suonato con delle mazze ci da un suono molto sofice immaginatevi quindi un utilizzo in qualsiasi situazione anche la più delicata possiamo suonare anche con le mani perfetto vediamo adesso il pandero modello capoeira della remo è leggerissimo pesa poco più di 300 grammi una pelle intonata con una intonazione abbastanza alta si chiama capoeira quindi proviamolo con un ritmo di capoeira grazie a tutti Grazie a tutti